Con calma e passo dopo passo la nuova Pistoiese 1921 prende forma ed inizia a far risultato. Sarebbe stato da illusi il credere sin da subito di spaccare il mondo sia pure in eccellenza. Il lavoro di Di Stefano non sarà semplice, neppure quello di chi è preposto a rinforzare una ossatura di squadra ancora a gioco forza non completa. C'è da inseguire, è vero. Quindi il 3-1 di domenica 27 contro la Virtus Poggi Bonzi deve far ben sperare in una settimana che prevede anche la trasferta di Barberino prima dello scontro con il Sochi. Tre punti importanti quindi ed anche dai titoli di Nazione e Tirreno dedicati alla gara traspare fiducia anche se si prende atto degli errori commessi, soprattutto in fase realizzativa. Vediamo le azioni principali in sintesi di questo Pistoiese 1921 Poggi Bonzi finita poi per 3-1, un po' scarsi presenti al Melani sui 650 e un po' in bambola anche la Pistoiese almeno nei primi minuti. Gli ospiti si fanno notare con Polloni e con Roselli su punizione sino a passare in vantaggio col centroavanti stesso Polloni al 24. Da qui in avanti è però solo Pistoiese subito al pari un minuto dopo con Pane Pinto e in vantaggio al 27esimo con un bel gol di giunta. La trazione anteriore imposta da Di Stefano alla squadra funziona e si mette in evidenza il giovane Marrani capace a fine tempo di colpire prima la traversa poi il palo. Gli ospiti non esistono più e arriva al 46esimo il sigilo del 3-1 merito dell'argentino Rocas. La ripresa non vede cambiamenti di punteggio ma si assiste ad una serie clamorosa di errori sottoporta del 18enne Marrani che in tre occasioni dal 10 al 20esimo spreca malamente dimostrando però se non altro buona capacità di movimento da aggiustare ovviamente la mira. Da notare in chiusura un palo per gli ospiti sul colpo di testa di Lodovici. Su fronte societario siamo nella fase in cui si attende l'allargamento della platea di possibili soci, insomma si attende la risposta della città, degli imprenditori alla possibilità loro data di sottoscrivere quote, si parte da un minimo di 5.000 sino a 20.000 euro. Dovremmo già essere ad una decina di nuovi sottoscrittori anche se al momento non è dato conoscere né il nome né lo spessore dell'intervento. Luciano Bozzi sta valutando attentamente ogni prestazione per capire le necessità dell'organico, conscio che i correttivi dovranno essere messi in atto al più presto. Non ci si deve dimenticare che pur con tutte le difficoltà societarie avutesi in estate, il compito della nuova US Pistoiese 1921 è quello di vincere il campionato. Null'altro. Null'altro.